Come ho visto il mio disegno sui biglietti della bioteria? Sono molto contento. Claudio frequenta ormai da tanti mesi il laboratorio di pittura. Quando ho chiesto a Claudio di parlarmi che cosa fosse per lui lo sport, lì si è illuminato lo sguardo, ha portato verso di sé il foglio e ha cominciato a disegnare un universo. Noi abbiamo comprato questo biglietto che sarà fortuna. Claudio, se dici tu, che cosa farai? Una bella vacanza.